bentornati dal mondo del collezionista con qualche giorno di ritardo rispetto all'uscita in edicola vi presentiamo due prodotti dedicati a road to uefa euro 2020 oggi sul canale vi presentiamo il team box e la premium iniziamo a presentare il team box costa 12 euro e 99 e contiene 6 bustine normali più 4 limited e voi forse sapere già quali sono ma dopo le andremo a vedere iniziamo con la premium ci sono 10 carte 6 normali 3 speciali e una limited edition abbiamo una possibilità su 8 di trovare sulle limited dedicate alla premium iniziamo ad aprire la premium a troviamo cirrus christi luca modric della croazia ma giocatore del real madrid una squadra della scozia che partecipa alla finale della national league razvan marin della romania e già troviamo un portiere vediamo ugo lioris della francia che la sua squadra il tottenham è nelle semifinali della champion c'è un toson della turchia e ragazzi questi colori mi dicono qualcosa di spettacolare troviamo la card invincibile non ci posso credere la card più forte del gioco mappe della francia e del psg cristiano ronaldo della juve e del portogallo modric che già avevamo trovato del real madrid e della croazia e varana della francia e del real madrid che bella questa card marcello brozovic della croazia pure neuer un portiere invincibile della germania e vediamo il centrocampista la limited troviamo christian eriksen della danimarca e del tottenham ricordiamo che una bustina costa 5 euro mettiamo ma questa qua è stata una bustina spettacolare mettiamo la card invincibile per prima andiamo ad aprire il box 12 euro e 99 ecco qua le 4 limited e le 6 bustine centrocampista luca modric di nuovo mamma mia che bello un portiere robin olsen della svezia e della roma harry kane dell'inghilterra e del tottenham ragazzi che belle e l'ultima provi lui del portogallo e della juve cristiano ronaldo ecco qua le 4 limited che troviamo nel team box ora andiamo a prendere una bustina prendiamo la prima però apriamo ecco depai memphis depai dell'olanda allen del galles lindelof della svezia un titi della francia king della norvegia e andrea belotti dell'italia mamma mia un italiano e se il video vi è piaciuto lasciate un like condividetelo con amici e parenti iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto facciamo crescere il canale e del mondo del collezionista è tutto a presto e ciao